Senti qua, ho iniziato una nuova abitudine che mi sta cambiando la vita. Ho smesso di usare Siri, ho preso un pezzo di carta e ho iniziato a scrivere. Ho fatto una lista fisica su un pezzo di carta e mi manterrà il focus sui punti e sulle priorità da portare a termine domani. Ti spiego. Se questa sera su un pezzo di carta scriverai fisicamente i punti secondo le priorità di quello che dovrai fare domani, non resterai in fondo alle tue note dell'iPhone. Sarà fisicamente in mano tua o sulla tua scrivania. Certo dovrai iniziare ad averlo sempre davanti agli occhi, ma il piacere che ti darà a togliere con una riga a penna ognuno di quei punti fatti sarà impagabile. In questo modo non concentrerai solo il focus sulle tue priorità, ma abituerai il tuo cervello a provare piacere ogni volta che porterai a termine un compito, eliminandolo a mano su quel foglio. La dolcezza del dovere compiuto, dicono alcuni, ed è alla base della soddisfazione umana, ma soprattutto della dopamina di cui il tuo cervello va tanto ghiotto. E questa è PNL.